Musica Si torna a parlare di bilancio nel Consiglio Comunale a Montesilvano anche con la presenza dei consiglieri di Fratelli d'Italia. È contento il sindaco De Martinis? Io al di là delle voci che circolavano in città non ho mai dubitato della serietà e della responsabilità da parte dei consiglieri comunali della mia maggioranza e tra questi il gruppo di Fratelli d'Italia ha un ruolo importante anche in considerazione del numero, insomma cospicuo del gruppo. Quindi io ho avuto sempre, ripeto, massima fiducia e la presenza dei Fratelli d'Italia oggi in Consiglio Comunale testimonia ancora una volta quando le mie parole poi non sono mai gettate al vento. Io sapevo che al di là delle voci appunto che circolavano in città oggi ci sarebbe stato un Consiglio Comunale con la presenza di tutti, come è giusto che sia e come è giusto che ci sia un discorso e un dialogo che da tempo si sta portando avanti e che dovrebbe portare quanto prima alla risoluzione di quelle che sono state le fibrillazioni di carattere politico e quindi a un riequilibrio della Giunta sulla base appunto dei numeri di Consiglio. Si è alzato un grosso polverone sull'argomento ma lei in tutta sincerità, Sindaco, come immagina la sua prossima Giunta, la sua prossima squadra di governo? Intanto la Giunta va ragionata intanto in termini politici ma soprattutto la scelta è sempre ponderata sulle competenze, su quello che praticamente ogni consigliere qualora assessore possa dare. Quindi si sta facendo un ragionamento a 360 gradi ragionando sui numeri intanto che parebbero essere certi ma soprattutto su chi potrebbe rivestire il ruolo e subito dopo ci sarà un ragionamento volto appunto a definire anche eventuali deleghe sulla base delle competenze di ogni singolo. Quindi oggi mi sento di dire questo poi quando ci sarà insomma una definizione completa si potrà potrò dire di più e come è giusto che sia. A chi dice comunque che questa situazione di stallo ha frenato l'attività amministrativa di Montesilvano, lei che cosa risponde? I fatti sono sotto gli occhi di tutti. Non c'è stato nessun freno. Da due anni e mezzo a questa parte l'amministrazione De Martini si è lavorato sempre, costantemente, soprattutto regalando alla città tutto quello di cui ha bisogno. Nonostante le difficoltà insomma legate alla pandemia che ha per forza di cose condizionato la vita di tutti i cittadini e anche la vita politica. Quindi mi sento di dire che assolutamente non c'è stato nessun freno e non ci sarà nessun freno. Tutta la durata del mio mandato io sono sicuro di poter continuare a lavorare con la stessa energia e per il bene della città e dei cittadini. Tutta la durata del mio mandato io sono sicuro di poter continuare a lavorare con la stessa energia e per il bene della città. Tutta la durata del mio mandato io sono sicuro di poter continuare a lavorare con la stessa energia e per il bene della città.